La laguna di Venezia è un ambiente unico, di grande valore, ma allo stesso tempo molto fragile. Per questo dobbiamo assolutamente preservarla. Dobbiamo continuare a capirla, a conoscerla, per cercare di capire qual sarà il suo destino e il futuro. Vi invitiamo quindi a conoscerla meglio con una serie di approfondimenti per capire quali sono stati i principali cambiamenti che le hanno interessata e soprattutto per capire quali sono i cambiamenti che la potrebbero interessare nel futuro. Grazie a tutti.